Ciao a tutti i cuoricini beddi e bentrovati alla cucina del cuore Oggi ricettina di quelle che non si può sbagliare Altrimenti mi linceno andremo a fare Visto che oggi è il carbonara day ovvero la giornata mondiale della carbonara Andremo a fare dei bucatini alla carbonara Spero che la ricetta vi piaccia Se sbaglio qualcosa non mi ammazzate Fatemi qualche critica costruttiva così posso migliorarmi Spero di no ovviamente Spero che la ricetta sia giusta Vi lascio la ricetta Ingredienti che ci serviranno per due persone sono 70 grammi di guanciale 30 grammi di pecorino romano 3 tuorli d'uovo E 160 grammi di pasta Ovviamente pepe nero Macinato fresco mi raccomando Per prima cosa Muniamoci di coltello Io uso un mio Santoku Dell'azienda Home Geek Del quale vi lascio il link giù nell'info box Sono pazzeschi Andiamo ad eliminare la cotenna Dal guanciale Andiamola a tagliare Io lo farò a quadrettoni Perché mi piace che sia Che lo sento in bocca Ovviamente potete tagliarlo anche a listarella O come meglio preferite Quindi andiamo a prendere una bella padella La portiamo sul fuoco E accendiamo a fiamma media Quando si sarà riscaldata Andiamo ad aggiungere anche il nostro guanciale Lo dobbiamo fare cuocere a fiamma media Per almeno 15 minuti In questo modo Da prima perderà il suo grasso Quindi inizierà a sudare Dopodiché diventerà croccante Date il tempo A metà cottura del vostro guanciale Tra i circa 7-8 minuti Andateci a calare la pasta Garusi beddi Quindi andiamo a separare le nostre uova Mettiamo gli albumi da parte E utilizzeremo solo i tuorni Se rimane il tuorlo un po' sporco di albume Ragazzi non ci fa nulla Ovviamente non dovete mettere tutto l'albume Quindi fatto questo Andiamo a sbatterlo energicamente Ma facendo attenzione Di non formare aree al suo interno Deve essere così Quindi andiamoci a grattugiare Anche il pecorino romano E solo tre quarti Li inserirò adesso nell'uovo L'altro Il resto lo metterò poi Sulla pasta dopo Quindi andiamo a mescolare il tutto E andiamo ad aggiungere un goccino di pepe nero Ovviamente nella cremina di uovo Non andrò ad aggiungere sale Il sale lo aggiungerò solo nell'acqua della pasta Non ne mettete troppo Perché tutti gli ingredienti che stiamo utilizzando Sono abbastanza esaporiti di suo Quindi mettiamo la pasta Puntiamo l'orologio La pasta deve essere al dente E mescoliamo di tanto in tanto Sia la pasta Che il nostro guanciale E una volta che la nostra pasta è pronta Andiamola a colare Con un goccino di acqua di cottura Non dovete scolarla completamente Lanzerita all'interno della padella E andate a spadellare per un paio di minuti Ancora a fiamma accesa Dopodiché spegnete la fiamma E andate ad inserire la cremina di uova E andate a mantecare così a fiamma spenta Mi raccomando è importantissimo Non vi preoccupate per l'uovo crudo Perché si cuocerà con il calore Della nostra pasta Arriverà all'incirca 65 gradi Che è il punto di cottura Per andare a pastorizzare le uova Aggiungete anche un mestolo di acqua di cottura della pasta Così da rendere la nostra cremina ancora più cremosa E andiamo a mantecare così Sembra a fiamma spenta Mi raccomando Dopodiché andremo ad aggiungere Il pecorino romano che ci eravamo messo da parte Così da rendere la nostra cremina della carbonara Ancora più cremosa Un altro po' di pepe a scelta C'è chi lo va a tostare Prima il pepe non lo faccio Perché ho anche lasciato il pepe del guanciale Quindi è già abbastanza saporita la mia Ovviamente non c'è bisogno che vi dico io Che bisognerebbe partire da ingredienti di ottima qualità Sia dal guanciale che dal pecorino Ma anche dalle uova Mi raccomando devono essere fresche Io la vado ad impiattare Vado a servire prima la pasta E poi vado a distribuire il guanciale sopra Con un goccino di cremina Un'altra spolverata di pepe nero Macinato fresco E un goccino di pecorino ancora sopra Spero che la ricetta vi piaccia Vi auguro un buon carbonara dei a tutti Alla prossima video ricetta Dalla cucina del cuore Ciao